Per me il futuro è energia. Per me il futuro è nostro. Il futuro per me è donna. La prossima è interessante e mi piacerebbe. Il futuro è una parola di opportunità. Per me il futuro è una sfida. La prossima è rosa per noi. Il futuro è il crescimento, l'expansione. Il futuro è arrivato. Il futuro per questi momenti, in una parola, è prometedore. Il futuro per me è un progetto. Il futuro è opportunità. La mia prossima è lavoro. Per me il futuro è lavoro. Per me il futuro è innovazione. Il futuro è emozionante. Il futuro è adesso. Non dobbiamo perdere tempo. Per me il futuro è crescimento. Vittorio il mio è promizionatore. Il futuro è per me un'opportunità di crescere. Sempre in evoluzione. Come un'idea da raggiungere. Il futuro è quello che creiamo. In un'attitudine di crescere. Per me il futuro è y только in ogni momento. Move per me il futuro è elder. Come un'addizionatore. Come un'addizionatore. Come un'addizionatore. Come un'addizionatore. Come un'addizionatore è afffu嘘. Grazie a tutti.